ciao a tutti sono andrea pagano tecnico di panificazione del mulino merano ed eccoci qua con la nostra pinza pronta per essere cotta andremo ad impostare quindi il nostro forno a una temperatura di circa 275 280 gradi per quattro minuti una volta fatta raffreddare la nostra pinza tra i 60 e 120 minuti siamo pronti per andare ad eseguire la seconda cottura una volta sfornata la nostra pinza finalmente abbiamo ultimato il nostro prodotto siamo pronti per andare a completarla con la farsitura finale io ho optato per un po di trifoglio un po di speck fresco alto tesino un po di formaggio di capra stagionato un filo d'olio un po di mostarda di fichi un po di cumino e per completare qualche germoglio colorato ed eccoci pronti quindi oggi cosa abbiamo imparato abbiamo imparato a cuocere e rigenerare il nostro prodotto grazie dell'attenzione e al prossimo video